Riflettere sull'esperienza di Scampia, che ha dato origine a una collaborazione tra istituzioni e comunità e discutere di come gli interventi di politica e di rigenerazione urbana possano generare impatto economico e sociale. Ieri la presentazione del libro Siamo solo sognatori abusivi, di Monica Buonanno. Un sogno realizzato, un'aspettativa non disattesa e soprattutto un racconto popolare a cui io do voce attraverso la voce del popolo di Scampia, che raccontano 40 anni di lotte e di battaglia per il diritto all'abitare dignitoso. E quindi Scampia maina la vela perché alla fine racconto di come è stata abbattuta la vela verde, che è una delle vele già abbattute e che fa parte di un progetto ben più ampio di abbattimento di tutte e sette le vele di Scampia e di una rigenerazione sociale e urbana, tra l'altro molto importante, impegnativa e sicuramente di grande impatto sociale. Ci sono delle storie più commoventi, una delle quali è una persona alla quale ho dedicato qualche pagina del libro, che purtroppo non è più tra noi e che ha potuto godere del suo alloggio popolare e dignitoso solo per poche settimane perché poi un brutto male se l'è portato via. Ed è un brutto male dovuto all'amianto che per decenni queste persone sono state costrette a subire sulla propria pelle e naturalmente difficoltà di vita collegate a tante situazioni, a tanti diritti negati. Un'iniziativa promossa dall'incubatore Stecca e dalla fondazione di Ruocco Francesco. Partire dall'esperienza di Scampia significa oggi avere una specie di manuale di istruzioni per conoscere un processo che è riuscito, un processo virtuoso di dialogo tra le istituzioni e i cittadini perché questo è l'esempio di Scampia, cioè scardinare un quartiere. Io non voglio definirlo soltanto di periferia ma ai margini, ancorato a degli stereotipi resistenti al cambiamento, vuol dire riuscire a far emergere quelle che sono le attitudini della comunità di riferimento. Attivare delle politiche di sviluppo territoriale vuol dire partire dalle attitudini e dai bisogni dei territori. Per l'occasione sarà allestita la mostra realizzata dagli studenti della Facoltà di Architettura della Federico II che hanno sviluppato la loro visione di sviluppo concettuale dei molini meridionali Marzoli. Abbiamo fortemente voluto proporre l'allestimento della mostra a cura della Facoltà di Architettura e con noi il professor Massimo Perriccioli che un anno fa ci ha coinvolto in un project work nell'ambito di un master internazionale sui molini Marzoli. Quindi i ragazzi sono stati invitati a riprogettare un edificio dei molini Marzoli a partire da quello che è il nuovo auditore del Greco. Questo è un evento molto importante in cui crediamo tantissimo come fondazione anche perché nasce proprio dalla condivisione di un sogno sia con STIC che con le università. La fondazione nasce nel 2021 per volontà del fondatore da cui porta il nome il signor Di Rocco e la nostra volontà è proprio agire sul territorio in quanto la nostra realtà, l'impresa, la holding tutta è un esempio virtuoso ed emblematico di quello che il nostro territorio è capace di esprimere. Quindi vogliamo immaginare sempre di più e realizzare dei progetti sociali e culturali per il territorio avendo chiaramente degli esempi virtuosi e importanti. Noi aziende, parlo come fondazione ma parlo anche come RDR che è una società benefit è questo quello che dobbiamo porci anche noi come obiettivo non soltanto il profitto ma anche il bene comune il bene comune quindi visto come approcciarsi con la diligenza del buon padre di famiglia nei confronti di tutto il villaggio e quel villaggio non è soltanto l'azienda ma è tutta la comunità, l'ecosistema di cui facciamo parte. L'imprenditore deve buttare il cuore oltre l'ostacolo quindi andare oltre quello che è il semplice profitto perché poi la sostenibilità non è più soltanto una questione etica ma è una questione di business, di competitività quindi questo momento storico di rivoluzione sostenibile va accolto, va assolutamente cavalcato noi ci siamo e quindi facciamo parte di questo meraviglioso ecosistema che vogliamo cambiare. È intervenuta la serata anche il neoletto sindaco Luigi Mennella. Questa è una cosa bellissima devo dire la verità è una speranza per tanti insomma parlare di rigenerazione urbana è oggi una cosa secondo me meravigliosa che dà un contesto differente, ripeto, di speranza per tante persone che vogliono vedere rinascere non solo la Napoli in quanto città ma anche tutto l'Interland. La cultura significa economia e quindi ripartiamo a costruire di nuovo una festa di quattro altari incentrandosi su un turismo come dicevo religioso ma anche tanti diciamo cultori della pittura dell'artigianato in particolar modo non dimentichiamoci che Torre è la città del corallo dobbiamo ripartire dalle cose nostre che sono non cose diciamo di poco conto anzi a livello mondiale.